Sono soddisfatto perché i ragazzi saranno allenati bene, però sai quando tu arrivi, subentri, non sai dall'altra parte, quando giochi contro, non sai a che livello veramente sono i tuoi giocatori. E invece no, devo essere contento per quello che hanno fatto, ho chiesto spirito di sacrificio, ho chiesto la prestazione, la voglia di divertirsi quando avevano il pallone tra i piedi, cercare appunto anche di vincere la partita ma stando ben attenti perché la Roma è una signora squadra, una squadra che fa del possesso palla e dei tiri in porta, è la squadra che più in porta aveva tirato in tutto il campionato, invece oggi, se ricordo bene, ha fatto uno massimo due tiri nello specchio della porta. Per cui questo significa che i ragazzi hanno fatto veramente una gran partita e sotto l'aspetto della determinazione, dello spirito di sacrificio ma anche tatticamente. Fabio si è caricato la Sampdoria sulle spalle, non ha trovato il gol, non siamo riusciti a dargli delle palle giocabili come lui sa fare e questo piano piano lo metteremo a posto. Però la cosa che mi è piaciuta molto del capitano che ha dato veramente l'esempio davanti a tutti, in trincea, a lottare, a rincorrere, a rientrare, è questo lo spirito che a me piace. Per quanto riguarda Bertolacci, è un giocatore che ha grande qualità, che sa dare i tempi di gioco alla squadra, per cui mi è sembrato giusto metterlo dentro perché durante questi allenamenti l'avevo visto bene anche se non aveva giocato da tantissimo tempo. Era importante il feeling, cioè io mi sono preso una gatta da pelare molto rognosa ma sono convinto che tutti insieme ce la possiamo fare, per cui ringrazio i tifosi per come hanno incitato e supportato la squadra, è stato bello all'ultimo, l'applauso è significato che l'impegno gli è piaciuto ai tifosi.